buon pomeriggio a tutti cari amici fan e ben mi stavo dimenticando della nostra grande fortitudo basketrani scusa cara fortitudo se lo faccio in ritardo il video comunque fortitudo basketrani che questa sera alle ore 18 e 30 a brindisi verso il palazumba affronterà appunto la dinamo brindisi 12 vinte e 5 perse contro la fortitudo trani 6 vinte e 11 perse brindisi in casa 6 vinte e 2 perse fortitudo 2 vinte 6 perse fuori punti segnati 89.8 brindisi 79.9 trani punti subiti 75.4 la dinamo brindisi 78.4 il trani comunque una cosa è molto sicura che la nostra cara fortitudo al momento è non in classifica e oggi sicuramente non sarà facile andare a andare a vincere a brindisi ma noi io vinto la società ci credo quindi sempre viva e forza fortitudo e ribadiamo oggi alle ore 18 e 30 presso il palazumba di brindisi appunto la nostra fortitudo basketrani affronterà un'altra partita al campionato di serie c silver in casa della dinamo brindisi quarta in classifica mentre noi noi trani siamo noni viva forza fortitudo e io tra non molto andrò anche a fare con alcuni dirigenti della fortitudo l'allenamento del basking quindi forza fortitudo la nostra fortitudo